Per cominciare andiamo a creare la nostra pagina. Per creare la pagina dobbiamo andare a cliccare qui su questo menu e successivamente andiamo in Pagine. Da qui andiamo su Crea nuova pagina. Allora qui dobbiamo andare a dargli il nome della nostra pagina la categoria e una piccola descrizione. Il nome della pagina ovviamente è obbligatorio come anche la categoria mentre la descrizione possiamo anche metterla successivamente però appunto ve la consiglio perché è diciamo il benvenuto il biglietto da visita di una pagina. Adesso io invento un nome della pagina e voglio aprire una pagina di un negozio di animali che chiamerò Bao Fermiao. e fantasia. Quindi la categoria vado a inserire animali e sarà un negozio di articoli per animali domestici. La descrizione andiamo già a inserirla. Nella categoria come avete visto basta inserire la parola chiave quindi non so se dovete creare una pagina di un negozio di abbigliamento andate a mettere abbigliamento e quindi vi uscirà tutto. Marketing se per esempio fate una avete appunto dovete aprire la vostra pagina di non so social media manager e quindi di freelance andate a mettere marketing e da lì usciranno tutte delle delle categorie che potete appunto tra cui scegliere. La descrizione del nostro negozio sarà benvenuti anzi benvenuto sulla nostra pagina offriamo no saremo lieti lieti di aiutare di aiutarti e soprattutto vi accontentare il tuo pelosetto mettiamo anche un bel cuore perfetto per il cuore va bene io in questo caso ho un macbook pro quindi posso inserire le le emoji direttamente il consiglio quando quando andate se volete appunto inserire delle emoji ma anche per esempio nei nei copy e utilizzare whatsapp web che vi permette appunto di di prendere e incollare le le emoji a questo punto noi abbiamo creato la nostra pagina e quindi clicchiamo su crea pagina bene questo qua è già esistente bau per miau torino ovviamente non l'avevo provato ok creiamo la nostra pagina prima o poi ce la faremo prima o poi ce la faremo ok adesso andiamo ad inserire dopo aver creato quindi inserito la nostra il nome della nostra pagina la categoria che appunto vi ricordo essere obbligatoria la descrizione che è una sorta di biglietto da visita quando andiamo a fare la ricerca di facebook la ricerca della pagina uscirà il nome della pagina e sotto la piccola descrizione quindi vi consiglio ovviamente di farla dopodiché andiamo ad inserire la l'immagine del profilo e la copertina adesso in questo caso ovviamente io non ho un logo perché questa questo negozio non esiste e per quanto riguarda solitamente i loghi è meglio per quanto riguarda appunto il logo utilizzare un logo riconoscibile quindi se abbiamo per esempio il logo abbiamo il nostro sito mettiamo il logo del nostro sito e sarà un'immagine riconoscibile e dovrà essere presente su tutti i social quindi facebook instagram piuttosto che whatsapp business e così via stessa identica cosa per il nome se la nostra pagina se il nostro sito si chiama bao per mia autorino la nostra pagina dovrà chiamarsi nello stesso identico modo come anche gli altri social che utilizziamo perché appunto è importante la riconoscibilità ora andiamo a creare il nostro logo per creare il nostro logo io utilizzo canva adesso vi faccio entro in incognito per farvi vedere come si crea canva se non avete ancora un un vostro profilo un vostro profilo un vostro profilo